bella raga qua bash e bentornati sul canale let's go oggi siamo qua in un nuovo episodio della mia nuova serie reaction spicy si let's go il dissing il flame no scherzo raga oggi facciamo un video serio perché c'è da fare c'è deve essere qualcuno che fa un video serio qui perché siamo un po lo sbando siamo un po lo sbando su youtube italia siamo un po lo sbando bisogna che qualcuno riprenda le redini in mano che prende le briglie e le tira fortissime fortissime allora non so come andrà questo video perché c'è un temporale di cristo sembra che c'è tipo non so ci sono tutti gli sprite qui davanti casa mia stanno facendo un festino hardcore quindi non lo so allora come avete visto dal titolo oggi andiamo a parlare di quello che è successo a nazionale e in particolare di quello che è successo a storm danno ma prima di tutto devo raccontarvi un piccolo aneddoto che è successo un po di tempo fa un pezzo di lore così per entrare un po più nel vivo dell'azione allora all'incirca un anno e mezzo fa storm danno mi fece una live reaction su twitch relativa alla mia tier list di master duel stiamo parlando della season 1 di master duel quindi il gioco era uscito da poco dove fondamentalmente lui mi va a criticare quello che dico nella tier list tier list soggettiva perché di base quello era ora non voglio soffermarmi troppo sulla questione critiche alla tier list soggettiva perché non è che c'ha molto senso avrebbe avuto senso criticare la mia tier list se fosse stata oggettiva relativa a uno specificato torneo con dati oggettivi ma fondamentalmente quella era una tier list sulla ranked di master duel dove io dicevo semplicemente che eldlitch e true draco per me erano tier 1 se non tier 0 e non è che io abbia cambiato opinione visto che comunque stiamo parlando di master duel che come sapete ve lo dico da quando ho iniziato a farci video per me è un gioco di merda semplicemente un gioco così per passare il tempo visto che non ha nulla di competitivo lo dirò sempre perché appunto non esiste la side e non esiste il match quindi è una partita così via subito bella e appunto in quella tier list che tra l'altro è la tier list pazza sgravata dissi quello che credo sia vero ovvero che un mazzo come eldlitch o true draco che possa sfruttare i floodgate senza il malus dei floodgate in un gioco dove non esiste la side e c'è solamente g1 per me era fortissimo e penso che sia così per tutti visto che credo che quando qualcuno dice eldlitch abbia i ricordi del vietnam e insomma lui fa questa reaction il giorno di pasquetta dove fondamentalmente mi va a criticare la mia tier list ma sinceramente me sono sbattuto il cazzo il problema succede dopo ovvero le due settimane successive alla sua reaction nella mia live ogni tanto entrava qualche depensante ora non voglio fare di tutta l'erba un fascio viva il duce ma comunque sia nelle due settimane successive alla sua reaction al mio video nella mia live di twitch venivano a cagare il cazzo qualche suo iscritto non che mi desse particolarmente fastidio però dava fastidio alla chat cioè questi venivano facciano le battutine no quelle cazzatelle e io dovevo perdere tempo a metterle in time out tanto che chi si ricorda misi la restrinzione nel canale dove potevano scrivere in chat solamente chi era follower per più di un mese e facendo così ho tolto quella situazione del cazzo ora non è che era una shitstorm però era un cagamento di cazzo nel senso io andavo live per i cazzi miei ogni tanto apparivano questi minion depensanti che rompevano i coglioni alla mia chat e io ho sistemato così e non feci niente non feci video risposta stestronzate non le feci sinceramente non le ho fatte perché credo nel karma e come vedete il karma ripaga sempre e oggi sarò io a fare la reaction al suo video let's go una disperata difesa allora parto subito col dirvi che il suo video originale non l'ho visto me lo sono voluto tenere appunto per fare questa reaction però ho visto la live del proteus e in tutta sincerità è stata una live di merda almeno secondo il mio modesto parere è stata una live di merda per il semplice fatto che è stata organizzata male la gente si parlava sopra l'una con l'altra e fondamentalmente sembrava un canele dove tutti abbaiavano a stormdano e lui puretto stava lì diceva sì ho sbagliato sì ho sbagliato non c'è stato nessun messaggio positivo non c'è stata nessuna morale fondamentalmente sono state due ore di live dove appunto tutti davano contro a lui ora non sono qui a giudicarlo perché io non sono né la konami né dio al massimo sono il diavolo però oggi visto che su youtube italia non si riesce nemmeno a fare un po di dissing un po di flame ste cazzate vi andrò a dire la mia modesta opinione vi chiedo anche di non andare a scrivere commenti da ritardati sotto il video di stormdano anche perché ce ne stanno già troppi detto questo andiamo a vedere il video incriminato e poi vi dirò cosa ne penso io di questa situazione let's go mi raccomando arriviamo a 100 like per il supporto vi chiedo solo questo ok andiamo a cambiare scena forza regia ti pago in biscotti per questo let's go oggi stiamo a sinistra un po mi dispiace però dobbiamo fare così ok stiamo registrando allora questo è il momento incriminato in cui fa il report dove dice che ha trassato andiamo a vedere partito un po troppo gli astri ragazzi ero tiltato ho sbagliato la combo lì errore mio no però vabbè la prima l'ho persa perché sono riuscito poi a tirare una culicara sullo zeus avversario lui topdecka la magia continua dei purelli con la quale poi aggiunge pure lili e li ribalta la situazione perché va a prendere la magia dal cimitero assorbe il mio e così fa un altro zeus e la partita insomma è andata a finire in quel modo secondo game secondo game signori e io ero partito dico bo mega lui però riesce a piazzare quel coso lì no e riuscendo a piazzare quel coso lì io giocavo l'essenza e per cui tecnicamente avevo qualcosa da settare il punto è che attenzione il trick ho settato il ho fatto ho fatto il troll no ho settato il kaiju il ragazzo me l'ha concesso io volevo solamente cioè io let's go let's go magic questa sì che è una spicy touch la volevo concedere no io volevo solamente però in quel caso lì dirgli insegnare e dirgli guarda tanto avevo perso ragazzi ho già subito due sconfitti ero fuori dalla top no volevo dire che stai attento a quando un superi samurai ti setta le carte che chiama un judge e controlla ragazzi io lo dico anche a voi quando piazzate il rainbow magic ammettiamo caso che superi vi torna e ha ancora meta mi raccomando chiedete chiamate un judge e dite ma c'ha qualcosa da settare infatti l'ho detto al ragazzo mi raccomando controlla questa situazione e lì ragazzi poi non ho potuto far più niente anche perché poi con la con l'ivigo glassion mi ha assorbito questa qui che poi andava al cimitero e non potevo fare oltretutto niente ma voi mi chiedete perché danno giochi senza antimagia quindi fondamentalmente il g2 l'ha vinto storm danno con il trick di magia lasco siamo qui allora allora boys qual è il problema secondo me secondo me il putiferio che si è scatenato non è stato tanto dato dal fatto che lui abbia ammesso di aver cittato perché si ha cittato e qui nessuno può di niente secondo me il putiferio è uscito fuori per quello che ha detto nel video cioè questa sorta di scusa dove lui dice ho trassato per insegnare al mio oppo a non farsi trassare che con tutto rispetto per me è una cazzata perché uno trassa per vincere non trassa per altri motivi non trassa per la scienza insomma trassa perché vuole vincere la partita e secondo me è stato questo il problema non tanto il fatto che abbia trassato non che sia giusto che abbia trassato però secondo me il fatto che esplosa questa questa shitstorm è dovuta da questa scusa che lui ha ammesso giustamente perché penso che si sia reso conto di quello che ha detto e quindi non so secondo me ha provato diciamo a pararsi il culo con questa storiella del ti insegno a non farti cittare e questo penso che abbia fatto girare il culo praticamente a tutti perché dicendo questa frase è un po' come se si sia messo in una posizione elevata dove lui ti insegna a non farti cittare cittandoti ora signori ci pensa il bash allora come avete visto sono usciti un sacco di meme un sacco di cazzate ma io credo che in questa settimana ci sia stato un deragliamento della psiche umana su yukitube italia perché io capisco che lui abbia sbagliato perché ha trassato e di certo non è che lo sto difendendo però secondo me tutto questo odio che si è generato verso di lui è un po' troppo esagerato perché porca madonna ricordiamoci che è un gioco di figurine e non ho mai visto una shitstorm così grossa dai tempi di ciccio gamer perché lui ha ammesso che ha trassato ora ho letto un sacco di commenti sotto al suo video e palesemente la gente è veramente frustrata e non aspetta altro che vedere qualcuno che sbagli per buttare addosso tutta la merda che ha dentro e mi dispiace sinceramente per quello che è successo anche se ha sbagliato perché ha citato volutamente perché quello non è non è stato un trass diciamo involontario come può essere la doppia normal che dopo 20 minuti di combo ti scordi di aver fatto la normal si scorda pure l'oppo fai la normal inconsapevole che hai già fatto una normal per esempio perché comunque ci sono un sacco di modi per trassare questo è stato diciamo proprio un trick magico è stato un trick magico ho messo il kai giù lì perché c'era questa possibilità adesso voglio dirvi una cosa ho visto veramente un sacco di gente che non lo so tra un po' sto andando lo mettono sul patibolo non lo so tiriamo fuori la ghigliottina io capisco che insomma la cazzata l'ha fatta per carità però secondo me tutto questa cosa che si è creata sopra è un po' troppo esagerata madonna che fulmini raga sto registrando il video temporale porca madonna senti che botto dio cane allora sarò sincero perché sono sempre sincero lo sapete e non sono family friendly e non ho sponsor quindi posso dire il cazzo che voglio io credo che la situazione vi sia sfuggita di mano perché ho capito che lui ha sbagliato perché effettivamente ha fatto la cazzata e ha fatto un'altra cazzata dicendo questa sorta di scusa dove lui non ha trassato per vincere ma ha trassato per insegnare all'oppo a non farsi trassare questa sì è una cazzata ovviamente solo lui sa quello che è vero e quello che non è vero io sto dicendo la mia opinione per me è una cazzata però dobbiamo dire che tutte le persone che lo hanno attaccato che hanno tirato fuori proprio l'odio che non capisco questa cosa io vorrei semplicemente chiedergli a queste persone che cosa avrebbero fatto loro al suo posto nel match decisivo per andare al day 2 del nazionale io credo che il 90% avrebbe fatto la stessa identica cosa parliamoci chiaro ragazzoni nei big event di Yugi la gente trassa non pensate che al nazionale italiano abbia trassato solo lui probabilmente avranno trassato almeno altre 15 persone la differenza è che per me lui non è un vero cheater anche se ha citato e questa cosa secondo me la va a dire il fatto che lui l'ha detto all'oppo cioè lui post match è andato dall'oppo e glielo ha detto quindi il fatto che lui abbia detto all'oppo che l'ha trassato a me fa capire che lui in realtà non è un cheater ma semplicemente in quella situazione ha azzardato a fare il trick magico come dice il proverbio l'occasione fa l'uomo ladro e la donna puttana quindi io credo che in quella situazione anche il 90% della gente che lo ha criticato che lo ha accusato che gli ha detto bannatelo bannatelo ma voi che cazzo ve cambie se lo bannano che pensate che poi il giorno dopo i cheater spariscono tutti ce ne saranno il doppio il giorno dopo dei cheater sinceramente non so che cosa vi porti in tasca se questo viene bannato puretto nel senso non che lo sto difendendo ma in parte lo sto difendendo perché è un gioco di figurine dio porco ed è vero che poi si dice è un gioco da bambini perché state facendo i bambini io ho capito che lui ha trassato per carità oddio ha sbagliato sì ok ma non è che possiamo metterlo al patibolo ok non è che possiamo metterlo al patibolo anche perché come vi ho detto e come vi ripeto per me al 90% tutti avrebbero fatto la stessa sua mossa tutti tutti non ci prendiamo per il culo non ci prendiamo per il culo tutti avrebbero fatto la stessa cosa al suo posto difficilmente qualcuno avrebbe perso G2 così per rimanere onesti ok sì sto dicendo una cosa un po' borderline ma io sono borderline ora io non sono qui a difenderlo perché ovviamente lui ha sbagliato e secondo me lo sbaglio grosso è stato diciamo il modo di mascherare la cosa come per la scienza insomma ho trassato per la scienza per insegnare al mio oppo a non farsi trassare quello secondo me è stato lo sbaglio un po' più grosso dell'aver trassato però a me dà fastidio molto di più la community come ha reagito perché per carità lui ha sbagliato ok ma è un cazzo di gioco di figurine quindi calmatevi e se siete così tanto frustrati trovatevi un altro hobby perché sfogare il proprio odio verso un'altra persona non porta niente e non credo che se lui venga bannato un anno dalla Konami voi dovete festeggiare perché non c'è un cazzo da festeggiare perché voi al suo posto avreste fatto la stessa cosa palese al 100% sfido chiunque a dire no no io avrei perso io avrei concesso così non ci avrebbe provato non ci avreste provato a vincere eh bastardi ovviamente quando dico voi non sto parlando a voi miei iscritti perché vi lovo vi voglio bene è un voi generale nel senso alla gente io credo che bisogna un attimo fare mente locale e trovarsi in certe situazioni per capirle perché quelli che l'hanno criticato probabilmente non sanno che significa essere in quella situazione di potersi giocare il day 2 anche se poi lui ha detto che non l'avrebbe giocato vabbè quelli sono cazzi sua però io penso che in quel momento semplicemente l'emozione l'ha fregato e ha fatto il trick magico poi ovviamente post match secondo me questo è sempre secondo me per carità io non c'ho niente contro nessuno secondo me post match sono saliti un po' i sensi di colpa e gliel'ha detto per questo io credo che lui non sia un cheater perché comunque sia un cheater non ha sensi di colpa chi cheitta cheitta e basta e purtroppo in ambito competitivo a livelli alti è pieno di cheater ora credo che la maggior parte delle persone sia ancora nel paese dei balocchi e non pensa che questa cosa sia vera però sì a livello competitivo specialmente nei big event la gente trassa non ci potete fare niente purtroppo è il lato marcio del gioco quindi facendo un recap finale sì lui ha sbagliato ma secondo me la community ha sbagliato il doppio rispetto a lui per tutto questo odio che si è generato nei suoi confronti perché per me è una cosa esagerata ricordiamoci sempre che è un cazzo di hobby non si vincono nemmeno i soldi porca madonna è l'unico gioco di carte dove non si vincono i soldi quindi dovete stare un po' calmi ok dovete un attimo calmarvi perché augurare il peggio ad altre persone non vi porterà un cazzo nella vita io sono bash questa è la mia modestissima opinione spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like per supportare la serie iscrivetevi al canale attivate la cazzo di campanelle delle notifiche seguitemi su instagram mi trovate come bastardo7 cazzo fatelo ragazzi fatelo e per questo video è tutto noi si beccamo al prossimo let's go buoni fulmini e sprite fulmini grazie grazie